Speriamo che regge. Grazie a tutti. 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 Ok. Ok. Grazie a tutti. Perché questa cosa? Guida fino al rifugio cistico. che in teoria non dovrebbe essere tanto. Ah, fermo. Andiamo di qua. Ah, ecco. quindi non devo andare. bene. con la misericordia. ma, ecco, ecco. una tanica perché c'è troppo in mezzo qua perché va in moto idiota vabbè però magari nascondila perfetto ok ok ma deve continuare a camminare però qua c'è un sacco di roba sono taniche di benzina dovunque poi io penso una cosa raga ma perché non ce ne andiamo cazzo devo fare qua cioè intanto la benzina l'ho messa quindi non devo mettere altro qua dentro quindi io me la svigno io me la svigno alla grande che non me ne frega niente sì 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 tutta sta roba ma la la prenderò voglio dire quanta roba c'è c'è qualcosa che non va c'è qualcosa che non va c'è troppa roba troppe risorse che può prendere ok che diavolo stai facendo qui devo cercare meglio allora vediamo un po' c'è una cosa che posso prendere? non sembra chi è? questa è la rabette no non di qui ok vediamo che succede qui sì lo sapevo il medio allora c'è una larva lassù ok come sto a darmi? no è successo mi sono disconnessa la connessione è remota ecco abbiamo iniziato ok abbiamo incominciato raga abbiamo iniziato io vi avverto che abbiamo appena incominciato e già rompono i coglioni ma fra poco penso che ok devo chiudere questa live e attaccarla alla playstation perché ha iniziato a rompere le palle devo entrare in qualche modo devi entrare sì ah c'è un cecchino c'è un cecchino cerchiamo di capire eccolo là il cecchino allora vediamo un po' se posso acchiapparlo e io come una strunza avevo qui so ok e non l'ho messo perché sono una struna merita strunza sono una merita strunza se sono una strunza possiamo fare ben poco un altro cecchino ma quanto sono imbecille vabbè ma mi faccio ammazzare oh ciao Ash ciao mi conviene farmi uccidere mi conviene proprio farmi uccidere perché questa deve essere tipo missione stelta insomma quindi non va bene così che se no questi mi acchiappano sempre buongiorno buon giur buon giur come va ieri ho seguito la la live di Brie fino all'ultimo ma sonnecchiavo e quindi ho detto vabbè ok non sanno che ci sono non lo sanno che ci sono applica va bene allora allora non sanno che ci sono ma cazzo perché non spari merdo ma hanno visto e che cazzo raga ma che cazzo oppla uff oddio ma che ok così andiamo meglio stronzio 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 oh bella carica c'è un cecchino non mi lanciare niente oh raga io non vedo il mirino mezzo a tutto sto bianco qua ok dai rialzati su non capisco che mi spara e da dove mi sparano si stronzio da davanti da là ah ok visti ma vaffanculo ok ecco perché tanto mi hanno visto quindi non è che mi serve il ce n'è un altro là vieni vieni qua come cazzo come cazzo preso preso no paura che macchiappa sto stronzo non ce la farò mai così oh oh l'ho acchiappato ok vado a prendere un po' di munizioni che ci sono in giro potrebbe servirmi potrebbe servirmi sicuro c'è qualcun altro sicuro qualcuno che mi sono perso mi sono persa allora inventario molotov pieno chi è oh eccoli no quelle sono larve però io devo entrare là buona parata ci divertiamo bene e dai madonna non farmi perdere tempo però ok chi mi spara qualcuno mi spara chi è oddio beccata ripiego chi cazzo è e quindi si si ma là ce ne va una larva altre munizioni che cazzo è che cazzo è Allora, eccomi qua Mi lacrima l'occhio come se non ci fosse un domani Vediamo un po' Penso c'è un filmato No, vabbè ragazzi Allora, qua è caduta di nuovo Quindi io devo bloccare questa live come ieri E rifarla da Playstation Non so perché, ma si blocca di nuovo Ok